La rassegna stampa della Gazzetta del Mezzogiorno, la prima pagina, violento incendio all'alba distrutto bus a Paninoteca, paura, indagini della polizia per fare piena luce sulla matrice del rogo che da una prima analisi sembrerebbe accidentale. Sottrate alle fiamme tre bombole di GPL che erano in zona. A fare rifiuti d'oro arrestati avvocato e moglie, inchiesta napoletana alla donna e ai domiciliari, Faggiano di nuovo in cella. Una storia senza fine, quella che vede implicato il legale brindisino. Il riconteggio porta sorpresa nel Consiglio? Si è votato a maggio, elezioni amministrative a Brindisi. Si spera che il conteggio finisca entro la fine di questo mese, che da due giorni dopo avvenga la proclamazione al fine di convocare la prima seduta del Consiglio Comunale. A un mese dalla strage una giornata per ricordare. Per Melissa, preghiere, cori, concerti e tante emozioni. Ieri ad un mese dall'attentato davanti al morvillo Falcone, nel quale ha perso la vita la sedicenne Melissa Bassi e altre cinque studentesse sono state ferite, tra brindisi e mesagne tante iniziative per ricordare quel tragico evento. Un avvertimento mafioso all'ex assessore provinciale San Pietro, incendiata l'auto di Curia, avevo denunciato il racket. La vettura è andata distrutta e danni anche ad un negozio della zona. Preparava le dosi di droga ripreso dalle telecamere. A Doria, arrestato per spaccio, usava casa abbandonata, era stata trasformata in deposito della droga. Uccise il vicino di casa per la bolletta dell'acqua. A Cellino San Marco, l'omicida condannato a 22 anni di carcere. Il nuovo quotidiano di Puglia titola in prima pagina rifiuti Faggiano torna in cella. Arrestate anche la moglie e la segretaria dell'avvocato nell'ambito dell'inchiesta di Napoli. L'avvocato brindisino Giovanni Faggiano torna nel carcere di Poggio Reale. Ieri mattina nuovo terremoto giudiziario a Napoli nell'ambito dell'inchiesta sui rifiuti. Minacce all'ex assessore. A San Pietro, incendiata l'auto di Curia, la politica non centra. Fiamme e paura nella notte in via Brindisi a San Pietro Vernotico. Un incendio doloso ha distrutto l'auto. Una Golf Volkswagen intestata alla Edil Natale, amministratore unico Natale Curia, sino a gennaio scorso assessore provinciale allo sport in quota a Io Sud. Circondati dalle fiamme. Panico all'asilo. Fuoco e fumo. Gli incendi fanno paura. Studenti allontanati da una scuola. Un vigile del fuoco rischia la vita. L'episodio più preoccupante è partito dal cantiere chiuso su via Caduti di Via Fani. Lambite alcune abitazioni. Brucia il camion a Paninoteca preso in gestione da due giorni. Incertezza sulla natura del rogo divampato all'alba. Sul posto i vigili del fuoco non avrebbero trovato tracce che lascerebbero pensare al racket. Non è quindi escluso un cortocircuito. Volevo uccidere Parato, non quelle studentesse. Vantaggiato ribadisce la sua versione mentre l'imprenditore di Torre incontrerà i cronisti. La palestra del Morvillo dedicata alla dolce Melissa, il pianto della prof, quella figlia persa dai genitori. La prima pagina di Senza Colonne. Incubo per Faggiano, bancarotta fradolenta contestata dalla procura di Napoli, ancora a fare rifiuti. L'avvocato torna in cella 12 giorni dopo la scarcerazione e stavolta dentro anche la sua socia, ai domiciliari la moglie. Nuove farneticanti rivelazioni un mese dopo la strage. Vantaggiato parla, l'Italia, ricorda Melissa. Il telecomando si è inceppato. Ho schiacciato, non è successo niente. L'ho fatto di nuovo e dopo 63 secondi c'è stata l'esplosione e me ne sono andato. Poco più di un minuto dopo, davanti al cassonetto dei rifiuti di colore blu, nel quale Vantaggiato aveva nascosto l'ordigno, è passato un gruppo di studentesse del Morvillo Falcone. C'era Melissa Bassi, c'erano Veronica e le sue amiche. La ex caserma riapre i battenti. Da ieri la società Santa Teresa ha una unica, immensa, dignitosa sede, il vecchio comando dei vigili del fuoco. Il presidente della provincia Massimo Ferrarese aveva visto in quel casermone, diroccato e abbandonato a se stesso, un'opportunità. Puglisi proviamo a tenerci Gibson, intanto il direttore sportivo Alessandro Giuliani lascia per Verona. Bucchi, il ritratto del coach fatto da lui medesimo. Un'intervista a Piero Bucchi, lontano per una volta dal campo di basket. Un modo per conoscere, con domande inedite, l'allenatore che ha portato Brindisi in Serie A, conquistando anche il pubblico. Grazie. 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 Grazie.